L'ultimo giorno di un anno tormentato dal covid, un capodanno mai vissuto prima e con regole stringenti da rispettare. A cominciare dal coprifuoco dalle 22 e fino alle 7 del mattino per un'Italia tutta rossa fino al 3 gennaio, poi lo sarà di nuovo dal 5 al 6. Sono delle limitazioni importanti ma noi siamo convinti che grazie a queste regole si uscirà da questa situazione. Niente feste, nei cenoni, in casa o nei locali, i ristoranti chiusi potranno fare solo l'asporto, lo stesso per bar e pasticcerie. Negozi chiusi tranne quelli di prima necessità, alimentari, tabaccai, farmacie, edicole, librerie, lavanderie, parrucchieri. Ad addolcire le rinunce di ognuno di noi la possibilità una sola volta al giorno di andare a trovare parenti, fidanzati, amici. Ma si potrà essere solo in due a uscire a meno che non si portino con sé figli minori di 14 anni o persone conviventi non autosufficienti. Come passo il Capodanno a casa con la bimba e mia moglie. Andremo a trovare suo fratello che abita di fronte a noi alle 10 tutti a casa perché non si può fare altrimenti. Io ho invitato mia moglie, ho detto che viene. Annunciati controlli a tappeto delle forze dell'ordine sulle strade per il rispetto dei divieti sui festeggiamenti con troppe persone. La ministra dell'interno Lamorgese dice saremo inflessibili, anche concentrati, sul monitoraggio della rete internet per impedire che si affittino case dove riunirsi, non rispettando regole e distanziamento.